buongiorno gigino stiamo in diretta web sul nostro canale sanità lorenzi già lorenzino voglio di vero e pd bloccati da di luca bloccano a bloccano bloccano ma è vero ma è vero ma il problema che qua parliamo del ospedale parliamo dei malati signori me questo è l'articolo vedete sul mattino datevelo a leggerlo il pt e la lorenzino bloccano veluta ma ma di là di che parliamo dell'ospedale ma di là di che parliamo di malati so che dovrebbero emanare ecco qua un altro mattutino eccolo qua ti saluta vedi che sei in diretta web non dici cosa ti saluta stava con di battista ieri di salerno che ragazzo con gli occhialini e ti saluta perché saluta in diretta web buongiorno stiamo leggendo il giornale in diretta sanità lorenzino e pd bloccano del lucro sulla sanità del lucro che vuole cittadina la bindi piaceva la cittadina ma ieri ne fanno via ferro e venuta lì signori vi salutiamo facciamo una chiacchierata fra amici quindi non mi interessa buona giornata buona giornata